e andate ma si li hai tenuti gioco tutti chieda chieda capi il pollo a stati compagni e li porti giusto caia non è la verticale è il compagno di appoggio bravo bravo da questa palla persa parte una ripartenza continuiamo a non giocare di prima e sfiorano a doppio gli avversari sono molto veloci nelle ripartenze oh che lo fai tirare punizione di rossetti salta palo poi gol in fuorigioco 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 ma la barca reagisce una paura sta a fare non è la barca non è la barca vai maestro traverso del persiceto Italo di testa Terretta per Didu, cross al centro gol su punizione del persiceto punizione di Italo, parata